ciao raga come state spero bene allora nuovo video what's on my phone si non faccio vedere cosa come come dentro però vi dico cosa c'è dentro si lo so non è la stessa cosa però ci tengo a dire che mi andavo di registrare un video diverso dall'altro così sto registrando un altro video diverso allora spero che vi piace questo video se è così continuate a guardarlo perché non sarà molto lungo anzi sarà una via di mezzo sarà corto a me lo spero comunque bando alle ciance cominciamo sigla e a dopo e riaccomi qua allora come non ho preso a conti da niente quindi speriamo che vada bene il video allora innanzitutto ci devo dire che scusate se mi piace il video mettete un bel like di supporto un bel like al canale youtube cioè questo video e se vi piace appunto il canale datemi l'iscrizione insomma tutto sommato e attivate tutte le notifiche la campanella comunque nulla allora come app appunto youtube studio poi youtube whatsapp instagram spotify poiché altro rds l'ho tolta perchè che me ne facevo lo potrei anche riaggiungere ma stavolta stavolta l'ho potuta aggiungere perchè troppo cioè ho poco spazio nel telefono non mi sembra il caso di riempirla di troppe app che poi manco uso e nulla cosa devo dirvi che allora c'è spotify youtube studio whatsapp instagram twitter twitter che sarebbe x adesso è come x che sarebbe x poi spotify ve l'ho detto vabbè oltre a ig che sarebbe instagram gmail e tutte quelle robe lì qui non è un sacco di app che non mi ricordo vabbè kine master si kine master poi come si chiama quell'altra che non viene a mente fatevi pensare inshot poiché altro inshot e tante altre app che non mi ricordo comunque perdonatemi sarà un video corto ma almeno ve lo guardate tutto come credo che sia poi cos'altro c'è scusate ragazza mi si trovate tutta sudata ma c'è caldo davvero chiuso le finestre perchè mi vergogno a fare il video con le finestre aperte mentre non potrebbe sentire gente ma chi se ne frega vabbè comunque cosa devo dirvi ancora delle app che nel telefono a spotify già ve l'ho detto inshot instagram youtube facebook whatsapp messager messager le app per rispondere anche ai vostri commenti che ne so youtube studio ma anche instagram l'altro app per rispondere ai commenti anonimi che ho che ho ma disinstallato ma ciò che è snapchat se qualcuno è interessato ciò che è snapchat ma qualcuno mi ha chiesto ma hai snapchat perchè ho sentito dalle mie scritte non faccio nomi non lo so come si chiama non lo ricordo manco perdonami ti mando un bacio a chi mi ha scritto su youtube che è ipovedente perchè lo so che le ipovedenti non lo so come sono comunque non so se hai modo di iscrivermi ancora su youtube non voglio dire cose strane ma se mi vuoi scrivere su snapchat infatti io sono melania barkestale sono su melania con mio nome e cognome melania barkestale b a r k s d a l e lo scrivo in sopra impressione in questo pezzetto di video ok poi non chiudo poi per chi mi vuole essere intracciare su come si dice su messager di facebook il nome è sempre lo stesso inutile che ve lo rimposto ma se volete ve lo rimetto di nuovo melania barkestale sono su facebook su instagram ci sono youtuber melania trattino basso 8 youtuber melania trattino basso 8 e poi cos'altro c'è c'è vabbè tutte le altre chat che ci scusate tutte le altre vabbè c'è un nottino che l'ho tolto perchè il nottino tanto non posso acquistare nulla perchè tanto compra mia non ha se vuole per me compra mia non ne basta si vedete il microfono perchè così almeno si sente bene speriamo che si senta bene perchè non è la prima volta che il microfono si sente così male vabbè lasciamo stare che è meglio il video finisce qua ah si il mio telefono è un iphone 15 vi ribadisco il mio telefono è un iphone 15 quindi mi ci trovo bene anche se a volte non benissimo ma pace, amen questo mi tengo poi avevo anche anzi ho tuttora un iphone 7 e va bene così quindi vabbè ciao ragazze a presto al prossimo video e grazie ancora perchè mi supportate in tante grazie ciao ragazze ciao a presto un bacio ah iscrivetevi attivate la campanella e ciao